Quinta sconfitta consecutiva per la Lieve Caserta, ascoltiamo una voce fuori dal coro, quella di Don Stefano Giacuinta, storico, tifoso della Lieve Caserta. Allora a Don Stefano chiediamo un parere su questa Lieve Caserta, adesso cosa succede? Io penso che lei vede un po' la squadra, la partita, i giocatori, è una squadra giovane, mettiamo questo alla base. Chi aveva fatto l'idea dopo due vittorie, vincevano lo Scudet, playoff, c'è la Coppa Itafi, la Litt, sono sogni di gente che mastica, ma sul territorio non c'è. Questa è una squadra giovane, l'Ele Molini, il coach, a cui la mia stima e il mio affetto deve continuare questo lavoro per il basket. E poi chi è bravo parli, ma è bravo pure chi mette mano alla tasca e dice Caserta. Io vedo acqua a Lete, cioè se ne è andata, altra acqua, pure Ferrarelle, se ne è andata, anziché di parlare, perché non ci indigniamo che questi industriali versano i soldi in questa provincia dove si parla soltanto male. Questa è la terra di gente per bene, che lo dico spesso, Lello Iavazzi, c'è quel palazzetto che l'ha resa una bomboniera, bello, anche pulito, ma sono persi cinque partiti. Capita il Milan, Berlusconi, che mi fa piacere veramente, che perda. Però questa squadra ha speso tanti miliardi per da noi, per quanto mi riguarda, che l'ho scritto pure su Facebook, noi dobbiamo molto a Lello Iavazzi, che porta avanti questa squadra, Carlo e a tanti altri. E io chiedo a tutti questi casertani che chiamano il basket, diamo fiducia a questa squadra. Lo stesso Lello Iavazzi per bocca del general manager, Marco Tripaldi, ha detto che probabilmente qualcosa cambierà dei provvedimenti, saranno presi proprio nel roster. Io vedo questo roster spaccato forse in due, ci sono da un lato il blocco degli italiani, o quantomeno il blocco di chi ha più esperienza in Italia, ci metterebbe anche Jeff Brooks, dall'altro dei ragazzi che ancora non conoscono le dinamiche di una partita in Serie A. Questo si vede sia nelle scelte che si hanno avvolte all'inizio della partita che in quelle finali che ci hanno condannato contro Reggio Emilia, contro Roma e contro Brindisi. Cosa ne pensi? Guarda, io faccio un quadro tecnico ma stando con questi piedi per terra, questi sono giovani, 20 anni, 21 anni, murro, 20 anni, PV, già ho detto tutto. Io potrei sindacare An, il Play, che veramente mi mette crisi addosso, ma questa, e lo vorrei dire a squarciacolo, è una squadra di ragazzi, Brindisi, ha speso 4 milioni di euro, ma ci vogliamo rendere conto? È vero che, come dice lei, che Lello Iavazzi vuole mettere in mano al portafoglio, ha ancora un altro sacrificio per mettere a posto questo roster. Il nostro scudetto si chiama salvezza. Dobbiamo essere chiari. A me piace quando al Palamaggio ne siamo in tanti, per quella canotta sudiamo, per quella notte si grida, per quella canotta si fa di tutto e di più. Io sono uno, come voi, che voglio vittorie, però ci vuole anche pazienza. A me è piaciuto quegli ultimi minuti, dove veramente c'è stato un sangue e arena, non possiamo nell'arena. Io vorrei così la squadra, pure se si perde di un punto, ma c'è sangue e arena, questo mi fa piacere. Perciò, torno a dirlo a tutti, guardate, questa squadra, questo quintetto, il blocco, come lei diceva, forse sembra fuori così, ma io mi sento, standoci dentro, è un bel blocco unito. C'è il capitano, un mordente, Marco è numero uno, penso che ce lo conosciate, nel basket per tutto, come dice lei. Penso che la squadra, come Basilare, va bene. Bisogna fare qualcosa in più. Il break del terzo quarto, domenica, ci ha condannati. Poi Brindisi, ho detto tutto, penso che è prima. Non a caso è prima. Ha detto tutto. Noi ci dobbiamo salvare. E per favore, a certi profeti di questo territorio casertano, parlano soltanto, parlano, parlano. Ci vogliono le pecuni, i soldi. E a Lello Iavazzi gli dobbiamo dire soltanto grazie. Io sogno che a maggio noi, noi siamo salvi, possiamo fare qualcosa in più, ma soprattutto avere la convinzione di dire grazie a Lello Iavazzi. E noi ringraziamo Don Stefano Giacuinto e forza. Juve Caserta sempre.